cari fratelli e cari sorelle buona giornata a tutti amici buona giornata anche voi pace del signore questa mattina leggeremo il capitolo 33 del libro della genesi capitolo dove ci viene narrato l'incontro tra giacobbe ed esaù un incontro che avviene a circa 20 anni dopo quella burrascosa quella burrascosa fuga di giacobbe dalla casa paterna e l'atteggiamento di esaù nei confronti del fratello è sicuramente opposto a quello che era stato manifestato ripeto circa 20 anni prima in genesi 27 41 infatti è scritto che a causa dell'inganno che giacobbe aveva fatto in combutta con la mamma e che aveva privato esaù della benedizione del padre esaù odiava giacobbe e disse in cuor suo in quell'occasione siccome i giorni del lutto di mio padre si stanno avvicinando dopo la morte di mio padre io ucciderò mio fratello una decisione che fa gelare il sangue anche perché a dirle un uomo che non aveva certamente scrupoli nel fare questo esaù infatti un personaggio da un punto di vista biblico o che ha che è poco attraente e gli infatti era un uomo che potremmo definire carnale questo lo capiamo dalla scarsa considerazione che diede alla primo genitura infatti ricorderete che la vendette per un piatto di legumi lo deduciamo dal tipo di vita che conduceva e da quello che è scritto nella epistola agli ebrei dove nel capitolo 12 al verso 16 nel parlare di esaù è scritto che nessuno deve essere fornicatore o profano come esaù il quale vendette appunto la sua primo genitura per una sola pietanza quindi esaù è un esempio negativo sotto diversi punti di vista ma ed è questo evidenziato anche dal fatto scusate stavo dimenticando che nella sua vita non ci fu mai un ravvedimento infatti leggiamo sempre nell'epistola agli ebrei che egli chiedeva la primo genitura la chiese con lacrime ma non gli fu concessa perché lui non ci fu un ravvedimento eppure questo uomo carnale questo uomo profano questo uomo che non è pronto a ravvedersi ha in ogni caso qualcosa da insegnarci almeno in questo passo e quello che ci insegna è il perdono che egli riesce a concedere al suo fratello Giacobbe erano passati venti anni Giacobbe è con la coda di paglia sa tutto il male che ha fatto è impaurito proprio da questo ha il terrore di incontrare suo fratello ma quando suo fratello lo incontra leggiamo che gli corre incontro lo abbraccia lo bacia sembra l'incontro tra due fratelli che si amano e non si vedono da tanto tempo eppure Esau abbiamo letto che odiava Giacobbe qualcosa era avvenuto e questo qualcosa che era avvenuto lascia un insegnamento a tutti noi che ci definiamo cristiani che siamo un po' con la puzza sotto il naso quando incontriamo qualcuno che è mondano che è carnale come Esau nella fattispecie ci insegna che è possibile perdonare anche quando si subiscono dei grandi torti perché umanamente parlando il torto che Giacobbe aveva fatto Esau non era di poco conto lasciamo perdere l'aspetto della prima genitura che lui aveva venduto ma la benedizione gli era stata sottratta con l'inganno e quello fu qualcosa di grave di molto grave eppure Esau riesce a perdonare signore aiutaci aiutaci perché noi delle volte ci nascondiamo dietro un dito e diciamo questo non posso perdonarlo su questo non posso passare sopra non posso transiggere non è giusto eppure la parola di Dio ci insegna l'importanza del perdono mi riferisco a quello sincero a quello vero ed è vero che è difficile riscontrarlo nella vita ma è possibile e se Esau ce l'ha fatto quanto più noi cristiani ce la dobbiamo fare ce la possiamo fare con l'aiuto che viene da parte del Signore si Esau non ha risentimenti ora verso Giacobbe anzi è contento nel vedere Giacobbe che ha prosperato un giorno Pietro chiederà a Gesù signore quante volte devo perdonare mio fratello quante volte fino a sette volte e Gesù gli risponderà io non ti dico fino a sette volte Matteo capitolo 18 verso 22 ma fino a 70 volte 7 e poi presenterà una parabola una parabola molto forte di un uomo che fece i suoi conti al quale gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti una cifra enorme e questo uomo che non aveva i mezzi per pagare cominciò a chiedere dinanzi alla decisione del creditore di vendere la moglie ai figli a chiedergli pazienza sì abbi pazienza con me io ti pagherò tutto e il Signore non solo ebbe pazienza ma addirittura quando dico il Signore intendo il creditore mosso la compassione non lasciò andare gli condonò il debito questo uomo però incontrò nell'uscire qualcuno che gli doveva 100 denari una piccola somma e lo afferrava lo strangolava gli diceva paga quello che devi e quello là gli diceva abbi pazienza io ti pagherò le stesse parole che aveva detto lui nel nell'invocare l'aiuto del suo creditore ma anziché commuoversi e immedesimarsi questo diceva no e andò lo fece imprigionare in modo tale che potesse pagare il debito quando questo avvenne le persone che erano presenti ne furono attristate e andarono dal creditore che gli aveva condonato il debito e gli raccontarono la storia e quello si arrabbiò e disse allora vieni qua facciamo una cosa ti faccio imprigionare in modo tale che anche tu come quell'altro mi arrivi a pagare tutto quello che mi devi perché raccontò questa storia Gesù per dire che il padre nostro che ci ha perdonato il nostro debito che è grande abbissale sono quei diecimila talenti si aspetta che noi siamo pronti a perdonare coloro che ci fanno del male ricordandoci che il male che possiamo ricevere non è mai paragonabile a tutto il male che abbiamo fatto al signore e se egli ci ha perdonato anche noi dobbiamo essere pronti a perdonare e voglio concludere questa mattina dicendo signore aiutaci e voglio invitare chiunque in ascolto e a qualcosa che ancora non ha perdonato a riflettere sull'insegnamento che questo mondano che questo profano che questo uomo esaù ci lascia e sull'insegnamento che Gesù per mezzo di quella parabola raccontata e di tante altre ci ha lasciato chiediamo aiuto e forza al signore per perdonare di cuore affinché anche noi possiamo essere perdonati pace cari dio ci benedica e ci accompagna in questo giorno